Come è stato attaccato per questa nomina destra? Come ho scritto nei giornali, credo che a qualcuno questo fatto abbia fatto enormemente piacere. Lei si sentiva in grado di poter fare il Presidente di Estra come competenze? Perché è stato attaccato soprattutto sotto questo punto di vista. Chi dice queste cose evidentemente conosce poco la società, nel senso che il Presidente di Estra ha compiti eminentemente istituzionali. In particolare per quanto le deleghe riguardano i rapporti istituzionali, i rapporti esterni, la parte relativa al sostegno alle attività del territorio. Per cui sono questioni che attengono a chi amministra. Per la parte tecnica abbiamo i direttori generali, abbiamo l'amministratore delegato, abbiamo dei bravissimi ingegneri e professionisti all'interno dell'azienda. Il compito del Presidente come ho detto più volte non è certo quello di prevedere l'estensione delle reti del metano. Sono cose leggermente diverse. Chi non ha capito questo lo ha fatto secondo me in maniera strumentale. Il futuro di Paolo Brandi oltre a difendersi dalle accuse, dagli attacchi anche anonimi che sono arrivati nelle ultime settimane, qual è? Il futuro di Paolo Brandi in questo momento è quello che torna al suo lavoro. Io sono funzionario della provincia per cui tornerò già dai prossimi giorni a lavorare in provincia. Questo per smentire anche chi dice che questi posti vengono riservati a persone che non hanno né arte né parte. Non è così, quindi tornerò a fare il mio lavoro. Per quanto riguarda la politica ci penserò perché questo modello di politica che sta venendo fuori oggi francamente non mi soddisfa. Non mi soddisfa perché di fronte a un linciaggio, perché io lo voglio chiamare così, mediatico che c'è stato, nei miei confronti non mi sembra che si siano levate, escluse quelle dei miei concittadini, delle voci a difesa. Anzi, direi che qualcuno con la scusa del nuovo ci ha pigiato molto e questo francamente mi lascia perplesso anche per quanto riguarda i mesi a venire. Quindi si è sentito solo, lasciato solo anche dal PD? Diciamo che la segreteria provinciale, la federazione in questo senso ha lavorato per cercare di trovare una soluzione alla vicenda castiglionesi. Non è andata in porto per vari motivi che faranno parte di quel lungo libro che è da scrivere per quanto riguarda Castiglion-Fiorentino, dove emergeranno con chiarezza, io credo, responsabilità e mancanze che ci sono state in questa vicenda. Quello che io rimprovero al mio partito è che non è più in grado di difendere i propri uomini, indipendentemente da Paolo Brandi, da una gogna mediatica in particolare che c'è all'interno di blog, di internet e di altre cose. E quindi in qualche modo oggi tocca a Paolo Brandi, domani può toccare a qualcun altro. Grazie.